Forte maltempo in queste ultime ore sul Cilento, lo aveva annunciato il bollettino della protezione civile della regione Campania nei giorni scorsi. Disagi e criticità si sono registrate in diversi comuni del comprensorio. Nella città di Agropoli, presso il parcheggio Landolfi, un tabellone pubblicitario di grosse dimensioni è stato abbattuto dalle forti raffiche di vento che si sono susseguite in queste ultime ore, mentre nel parcheggio dell'Eurospin, in via Taverne, un furgone con vela pubblicitaria si è ribaltato e un palo della corrente elettrica è stato piegato dal vento in località Frascinelle. Necessario invece l'intervento dei vigili del fuoco in via Campania per la messa in sicurezza di due comignoli abbattuti dal vento. I caschi rossi sono dovuti intervenire mettendo in sicurezza l'aria. A lavoro, nella giornata di ieri, anche i volontari della protezione civile città di Agropoli. La protezione civile regionale raccomanda di prestare la massima attenzione, l'allerta meteo resta in vigore fino alle 23.59 di oggi, lunedì 7 dicembre, per criticità idrogeologica gialla sull'intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4. La perturbazione persisterà sulla Campania anche nei prossimi giorni e non si escludono ulteriori proroghe dell'allerta meteo. Sono previste nuove perturbazioni, anche intense, soprattutto nella giornata di martedì 8 dicembre. La protezione civile della regione Campania raccomanda agli enti competenti di mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, anche in assenza di precipitazioni cospicue. Particolare attenzione va prestata proprio alle aree interessate dai consistenti dissesti idrogeologici causati dagli ultimi eventi avversi, nonché alle zone particolarmente fragili del territorio.